Oggi giornata dedicata alla Brigata Maiella nel Teatro Comunale di Casoli, un convegno dedicato alla Resistenza abruzzese. Sentiamo Daniela Senepa. In piedi e in silenzio per un minuto in teatro a Casoli per i caduti della Brigata Maiella nella giornata dedicata alla Brigata Maiella, qui in questa parte d'Abruzzo martoriata dalla guerra e dove i patrioti prima e la Brigata poi hanno dato una spinta fondamentale alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, una memoria che è civiltà da consegnare ai giovani. L'unica soluzione è quella di studiare e quella di insistere soprattutto con i ragazzi e di insistere entrando nelle scuole affinché anche raccontando episodi di vita o corsi nel nostro territorio ciò possa diventare un argomento più vicino e quindi non qualcosa di astratto ma qualcosa di concreto. Ampi protagonista, dibattito, letture, alcune classi, l'emozione dei giovani in teatro per insegnare ed apprendere quanto sacra sia la libertà e quanto sia costata. E alla fine a Casoli le note del silenzio ma non in un luogo qualunque ma dinanzi alla casa del comandante Ettore Troilo, il padre della Brigata Maiella.